Spettacolare pari per 2-2 tra Cugno e Como, un punto d'oro per la squadra di Petruzzelli che si avvicina sempre di più alla salvezza senza play-out. Il Como passa in vantaggio con Katia Coppola, Belmancino con palla che sbatte contro il palo prima di infilarsi in rete. All'intervallo ospiti avanti 1-0, nella ripresa il Cugno centra una traversa, sul cambio fronte si pareggia nel conto dei legni con il palo colpito dalla formazione ospite. Il Cugno spreca l'occasione del pari, provvidenziale la parata di Ventura. Al 75esimo è ancora Katia Coppola ad andare in rete firmando la sua personale doppietta dopo aver saltato il portiere avversario da posizione defilata. La partita sembra chiusa, il Cugno al merito di non mollare mai e accorciare con Sandy Iannella a 10 minuti dalla fine della gara. Il Cugno pareggia al 92esimo minuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo grazie alla deviazione di Sandy Iannella che firma l'incredibile 2-2 finale.